Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno e buona domenica! Come di consueto, giochiamo per fare una partita tranquilla di in relax. Un giro gratis, che lo ricordo non è in realtà gratis in sé, è un premio dell'evento, in più specificatamente Spanish League. Eccolo qui. Con la possibilità di avere un accordo al buio e di avere i giocatori bonus, che sono quelli che giocano nella Liga. Ecco, vedete, c'è un Manny e Rüdiger, questa è la mia formazione base, quando vado a giocare, poi in realtà metto tutti i giocatori della Liga. E qui in panchina non c'è nessuno, perché De Paul viene considerato argentino. Beh no, però ci dovrebbe essere Vinicius Junior, infatti Vinicius Junior fa bonus. Allora, andiamo a prendere il premio. Mi sono sbagliato. Andiamo indietro. Eccoci. Allora, qui ci sono anche i premi del pass. Andiamo. Eccoci qua. Allora, contratto. Vi dico subito che a me il giocatore, l'unico che mi interessa davvero, è quel Pavard, che vorrei vedere a confronto con quello che già ho. Perché potrebbe essere interessante, però lo devo vedere, anche come terzino destro. Trossar, ne ho sentito parlare molto bene, ma mi interessa relativamente. Rafinha, no, perché in quella posizione sono molto coperto. Cilwell CLS pure sono coperto. Simons, idem. Frimpong, uguale. Openda, Rachmani, molto bene, ma ho difensori più forti. Laurentet, Billing, Sirigu. Insomma, ragazzi, l'unico che mi interesserebbe è Pavard. Se pesco Pavard, sono contento. Se non lo pesco, amen. Non fa niente, perché è solo per confrontarlo con il giocatore che già ho di Pavard in campo, che come terzino destro mi piace molto. Quindi andiamo un po' a girare e speriamo in Pavard. Se viene nessuna lega va molto bene, perché la Germania non ce l'abbiamo fra leghe disponibili. E invece no. Liga Spagnola, 5 stelle, sarà Rafinha? Rafinha. Non c'è male, eh? Ci mancherebbe, però. Andiamo un attimo a... Passaggio alto 75, finalizzazione 78. Andiamo un po' a mettere in squadra, tanto per farsi un'idea. Schema di gioco. Sostituti, no. Riserve. Dov'è, 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 dov'è? 94. Allora. Vabbè, Lewandowski, Lewandowski, Messine, Margar, Diol, Griezmann, Coman, era 93. Eccolo, Rafinha. 93. Ineda diventa 96. Allora, confrontiamolo. Confrontiamolo con Odegaard. Allora. Selezioniamolo. E andiamolo a Odegaard. Dittaglio giocatore. Allora. Comportamento offensivo, meglio Odegaard. Controllo palla, meglio Odegaard. Dribbling, meglio Odegaard. Possesso stretto, meglio Odegaard. Passaggio allo su terra, meglio Odegaard. Passaggio alto, meglio Odegaard. Finalizzazione 1 in più, Rafinha. Colpo di testa, più 3, vabbè. Calci da fermo, meglio Odegaard. Tira giro, meglio Odegaard. Velocità, indubbiamente, meglio Odegaard. Accelerazione, meglio Odegaard. Salto, meglio Odegaard. Contatto fisico, meglio Odegaard. Controllo corpo, meglio Odegaard. Resistenza, meglio Odegaard. Comportamento difensivo, meglio Odegaard. Contrasto, meglio Odegaard. Aggressività, meglio Odegaard. Comportamento, coinvolgimento difensivo, meglio Odegaard. Diciamo che potrebbe essere interessante se stai perdendo. Però chi tolgo? Chi tolgo da qui? Messi, De Paul, Vinicius. Tutti giocatori molto utili. Quindi, forse Romario in questo momento è quello che mi serve di meno, perché ho da mettere punte in caso. Così tanto per capire. Ah, anche Esa, va bene. Il trequartista proprio no. Però lo proverò, lo proverò, ragazzi. Mi sa che per il momento tiro fuori Romario, perché sostanzialmente Romario non mi sta esaltando. Lo voglio provare Rafinha, d'accordo? Ci vediamo al prossimo... Stasera non lo provo perché già lo registrate le partite, ma lunedì sera proveremo Rafinha, d'accordo? Ciao! E buona domenica, ovviamente. E buona domenica.